Massimiliano Grasso, si ampia la squadra per questo progetto civico, scende in campo anche Giampiero De Angelis? Sì, diciamo che come già preannunciato tempo fa stiamo lavorando a questo progetto civico che parte dalle diverse esperienze abbiamo avviato un dialogo con altri che a loro volta stavano ragionando su un'iniziativa analoga e ci siamo trovati con l'amico Giampiero De Angelis in sintonia su molti punti. Il primo punto è quello di rimettere al centro i civili da vecchiesi e di ripartire da quelle che sono le necessità e i bisogni della città. Su questo stiamo aggregando, credo che a breve avremo altre buone notizie da dare perché c'è molto entusiasmo attorno a questa iniziativa che ripeto è un'iniziativa che nasce in un campo civico e aprendosi poi al confronto con le varie forze che si riconosceranno in questo progetto che va arricchendosi e che al centro mette le persone e i civili da vecchiesi. Questo progetto civico parte da molto lontano, parte da qualche anno fa, potrei dire, 2015 dove ovviamente si parte da un principio fondamentale cioè ridare vorrece ai cittadini e evitare che tutti i progetti civici delle ultime elezioni partendo da lontano, partiamo dall'elezione degli anni 90 le liste civiche hanno fatto sempre quasi esclusivamente da supporto ai partiti tradizionali per poi scomparire subito dopo le elezioni. Abbiamo fortunatamente delle liste che in questo caso non è accaduto tipo la svolta di Massimiliano Grasso che l'ha visto protagonista negli ultimi cinque anni in Consiglio Comunale facendo un'opposizione secondo me abbastanza seria e concreta e altre liste che esistono da sempre, altre coalizioni di cittadini che possono dare questo contributo. Dobbiamo sovvertire questo metodo di partire dall'alto per poi arrivare alla città ma partire dai cittadini per poi decidere insieme a loro quali saranno i progetti da portare avanti e ridare un po' di sorriso e di slancio a questa città che mi sembra abbastanza avvilita e chiusa su se stessa.